Eccala che si è giocata in parche Gio, io già uso ragà C'era 500, ah 100-100 Minchiasimo ti giuro baciami in bocca Porco due De più serò in viso C'è un corpo a terra lì Tutto io Ah ma non ho fatto un cazzo nella vita Vabbè finché killi che cazzo me ne faccio Siamo io mamma e te tezio C'è un corpo a terra lì C'è un corpo a terra lì C'è un corpo a terra lì E' un corpo a terra lì C'è 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 un corpo a terra lì Vai fallo Ci sono gli ATS Eh io non posso Devi vencere tu qualcuno No Americhé rimasto Americhé rimasto Ah vai i trecci Americhé rimasto Americhé rimasto Vedete? E' un corpo a terra lì E' un corpo a terra lì E' in kitchen E' un corpo qui a terra lì in kitchen 20 HP maverick cover he's on the right yeah and that one both go outside and just don't pee just wait until he kills just start to see it I don't know I don't know I don't know I don't know he's done he's done he's done he's done why are you talking? we're in 2 we're in 2 we're in 2v5 we're in 2 yes the van is puled ah no one here one is in yellow I don't know how to enter I want to know I really want to know he's gone he's gone not I think he's gone so I'm if I'm 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 ma mi spiega come cazzo sono morti tutti 2 v 4 2 v 5 dopo di 20 secondi il martello della chico oh mio dio sai che fa stanno garage si raga volevo fare qualche verticalità qua c'è non è che la mia colpa è mia c'è solo loro che muoiono ogni 2 secondi in checcio veramente a gotare a checcio con un po' però una roba lontano Un uomo per la squadra alleata Dietro il banner Non ha senso fare verticalità Ma raga ma sinceramente bisogna giocare Pieno piano sul rainbow Non bisogna pushare Se io volevo scovare qualcuno Se io volevo scovare qualcuno in piano Perché non dovrei Sono loro che muoiono dopo un secondo Non è che devo andare subito Siccome io non posso fare verticalità in piano Perché sono solo chat Non ho il team Quindi non ho nessuno che mi protegge Io prima rompo sopra Vedo se in piano c'è qualcuno Casomai lo ammazzo E poi scendo Se loro mi muoiono in due secondi So cazzi loro Vabbè Ha messato la Ha messato la C'è pure scoppiato Secondo me Ha messato Ah Quanto l'ho toccato Quanto è vita Ragazzi Stanno a far verticalità ovunque Un po' comunque Quella usa crash in quella maniera GGS Sto wrong Ma mi ha preparato? Sì sicuramente Ovvio che Amaro ci schiatta Come se non se l'aspettano Dopo che l'ha preso per otto round Quello patore Hai capito? Vabbè ma Amaro è particolare Posso prendere No non lo posso prendere Mi fai una follo? Ok Volevo prendere il cellulare Voglio prendere un attimo il cellulare Vediamo se posso Minchia E ce n'è uno Su Mi pare che è proprio Cattivissimo Tipo È cross Tutte le rotation del mondo Sì sì no ma È cross Tipo in A Qualcuno uscirà dall'interno Non esce dal buco Che mo' di nuovo? Una scale Yellow Ma quanto cazzo Spara questo? GG GG Minchia Sarà chiuso dietro la porta O dietro al site Mamma mia Partita vincibile Ma Bah Insomma Sì 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 yes sì 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 Grazie a tutti.